C'è notti quando era in difficoltà buttava Ambrosini e Ambrosini faceva il centro avanti negli ultimi minuti, ma al di là della battuta questa potrebbe essere una soluzione contro la Roma, poi io non escludo la partita con il corso. Ricordiamo importantissima per l'Inter che potrebbe in qualche modo salvare una stagione la gara di mercoledì. In questo momento appare proibitiva, nel senso che se tu metti i problemi dell'Inter, la Roma che invece deve finire in un solo modo, però probabilmente un gol da rimontare, però che Inter sarà, che Inter numericamente Stramaccioni metterà in campo. Anche perché oggi ricordiamo che ci sono stati altri due, perché scusami, non c'è… No, perché io sono stato pesantemente attaccato dai tifosi dell'Inter dopo la Querel con Stramaccioni. Hanno fatto bene. Ma come hanno fatto bene? Ma ragazzi, ma…